Picasso diceva, i bravi artisti copiano ma i grandi artisti rubano. Vedi, i miei studenti mi chiedono spesso, Giacomo, come ci riesci? Come riesci a fare tutto questo e ottenere tanti risultati in così poco tempo? Cosa rispondo? Semplice, gli rivelo qualcosa che, sin dall'inizio della mia attività, ha letteralmente fatto esplodere i miei risultati. E si tratta di qualcosa che chiunque può utilizzare. Ma qual è il bello? Il bello è che è qualcosa che tu puoi iniziare ad utilizzare oggi. Lascia che mi spieghi. Immagina quanto saresti più felice oggi se il Dalai Lama fosse la tua guida personale e ti mostrassi come ottenere soddisfazione nella vita nelle piccole cose che tutti gli altri trascurano. Immagina quanto saresti in forma oggi se ti svegliassi, andassi in palestra e trovassi come personal trainer Rich Froning a mostrarti come hai riuscito a trasformare il suo corpo nel corpo più in forma del mondo. Immagina il successo che potresti avere se ora, in questo preciso momento, tu avviassi una nuova attività come socio al 50% con Richard Branson e lui utilizzasse tutte le strategie con cui ha costruito oltre 400 aziende di successo per lanciare la vostra. Immagina se ora, in questo preciso momento, potessi scaricare la conoscenza delle persone che prima di te hanno fatto quello che tu vuoi fare nella vita, le più intelligenti, le più sagge, le menti più brillanti, quelle più esperte. Allora sì che otterresti tutto quello che vuoi ottenere nella tua vita. Bene, non devi solamente immaginarlo. Infatti io l'ho scoperto quando ho deciso che avrei fatto di tutto per lanciare la mia attività online e che per farlo avrei dovuto studiare business e marketing. E da allora ho iniziato a studiare e leggere centinaia di libri, a seguire corsi ed affidarmi a dei mentori esperti cercando di diventare uno dei loro migliori studenti. E più mi formavo, più ottenevo risultati. E più ottenevo risultati e più la mia sete di conoscenza aumentava. E in questo processo ho scoperto quanto la conoscenza sia tutto e di come studiare chi ha già raggiunto risultati sia uno scorciatore incredibile per i tuoi risultati. Ora, io sono molto grato di tutti i mentori che ho avuto e mi ritengo davvero onorato di occupare questo ruolo da ormai più di 5 anni per centinaia di studenti. Ma ecco la mia domanda per te. Quanta importanza dai e quanto tempo dedichi ogni singolo giorno alla tua formazione? Hai già dei mentori per ogni area della vita che vuoi migliorare e in cui vuoi ottenere dei risultati? Lascia un commento e fammelo sapere. Vedi, ogni volta che i miei studenti mi fanno quella domanda, la mia risposta è sempre la stessa. Qualunque sia l'area della tua vita che vuoi migliorare, la strategia è molto semplice. Trova un mentore che ha già fatto quello che vuoi fare tu centinaia di volte e applica i suoi insegnamenti con azione e con perseveranza. Focalizzati esclusivamente su questa singola cosa e ti sorprenderai dei tuoi risultati. Te lo prometto. Grazie.